ti do la mia dagliela lui dagliela dagliela lui te la porta su marino dopo di là è tutto in piano è dopo di là è tutto in piano ma va no di là dopo è tutto in piano no non c'è più sta roba ma l'enduro non è questa roba qua ma l'enduro c'è una compagnia ma c'è una compagnia ma c'è una compagnia ma c'è una compagnia ma c'è una compagnia guarda guarda che stile seconda e manetta caricala no sta indietro basta 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 no va su va su va su va su va su va su è fatto vai a ruzzarlo vai dai capo spaffi sei tu il number one dai vai aiutarlo vai tanto devi andare su sono poche di forza che li forniti ho già pensato a non mettere il piede come facciamo così si si è quello eh non lì indietro porto che poi bucchi e basta adesso tu parti da lì vedi la testa se tu li forniti ah vai giù a fare vai giù a fare è vuoto completamente non fa un cazzo è riuscito a salvarla vai che da qua non riesce a salire non fa un cazzo è proprio via te e ciao via 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 quando hai fatto il primo piano manetta fino al secondo non fermare, non pesare i piedi adesso cadono giù tutte e due io non ho fatto il commentario no, non provare un canto qua tu porti la mia no, no, accendila no, non riesco siamo nella stessa situazione accendi che ti do questa accendila no, non riesco a accendere la sua neanche questa, a dire la verità vai, vai, vai vai vai, vai vai io non lo so bravo bravo seconda mi ascoltano su una margine qualunque marcia è va bene va bene se lo dici te ma secondo te io non vengo a aiutarti che questa pesa in prima in prima allora ti metti in seconda qualca troia se viaggia oh ora vedremo cazzo minchia e che è cazzo se viaggia oh è leggera alla metà cazzo ho fatto il primo mi sei penata su così cazzo porca loca terza va a me missile eh che adesso voglio vedere con la mia no ma quando hai fatto su il primo tocchettino dopo devi dargli forte lì perché sennò sti slitta capito se prendi velocità beh la ruzzata su dai che arrivi lento lentissimo no ha portato via il diretto di sosta che pirla alla zona del reggiseno l'ha presa perché l'ho messo la io di traverso e la porta via ma che piccolo oh c'è in mano una moto della madonna eh fai fatica con la mia si la tua ma hai visto il primo orco di ancora un po' mi ribalto è un piccio perché l'ha preso di là nella nella zona che ho messo la io adesso arriva la cavalletta basta te adesso andiamo via tranquilli un pezzettino di discesa un pezzo di scelto al salitino non c'è più un cazzo eh con calma hai tirato giù anche il sasso hai tirato giù guarda guarda il sasso guarda il sasso guarda ma smettiti eh madonna cazzo c'hai mica tre anni eh figaro tira fuori che ti sputo come il toni ti sputo su ti passa tutto te lo ricordi il toni? chiamiamole l'elicot oh che schifo è passato tutto però è normale che picchi quel montese è normale la tua va una bestia eh io riesco a far